Un rigore generoso, dir poco forse. Sì, un rigore molto generoso. Non lo so cosa ha visto l'arbitro in quell'azione, la panchina era lì vicina, il guardalinea anche. Si è visto già in anticipo quando Luca ferma la corsa, alza le braccia per non toccare proprio l'avversario e lì Antenucci si lascia cadere da solo, credo che è un rigore inesistente, quindi andiamo avanti. Direttore, voi avete chiesto informazioni all'arbitro, avete parlato con l'arbitro, vi ha detto qualcosa lui in merito a questo contatto? L'arbitro ha detto che c'era rigore, non ha dato neanche tanta spiegazione perché ormai con gli arbitri non si riesce neanche a parlare. Quindi in questi casi chiaramente sono state chieste di rispiegazione, per lui ha visto che c'era il rigore, non abbiamo neanche approfondito perché c'era troppo nervosismo. Un Avellino che dall'inizio dell'estate sembrava in crisi, poi è riuscito a descriversi al campionato il passaggio di quote societarie, è una squadra apparentemente da bassa classifica, l'abbiamo visto anche da quando è arrivato il nuovo allenatore, ha anche svoltato in termini di risultati. Sì, ha fatto delle ottime partite, degli ottimi risultati, poi ha fatto anche degli acquisti, nonostante le problematiche societarie che ha avuto. È una squadra difficile da affrontare, una squadra che lascia pochi spazi, poi riparte bene a giocatori di qualità in avanti, quindi sarà una partita difficile. Però credo che ci trovano in un momento buono, la squadra sta bene, allora c'è solo di prepararla al meglio e cercare di fare meno errori possibili, cercare di fare una gara perfetta perché comunque hanno dei giocatori che se lasci spazi possono fare male.